Centinaia di piedi stanno camminando su questo suolo per dire con forza che tutto ciò che ci riguarda lo dobbiamo guardare, controllare, che lo dobbiamo gestire noi, che non può essere un mattino di pochi a gestire queste e quelle che sono le nostre vite, i servizi che vengono a condizionare la nostra vita dal mattino alla sera, noi siamo la luce che fa sparire il buio, quel buio che c'è dentro ognuno di noi, quel buio che c'è dentro ognuno di loro, ma noi la luce ce l'abbiamo dentro e quel buio l'abbiamo fatto sparire, quel buio si chiama mafia, qualcosa che non si vede, vi dico solo una cosa, voi, noi stiamo pagando nelle bollette dell'acqua le loro mazzette perché anche in Acea ci sono gli appalti dati a qualcuno che è legato a Mancini, sono nomi che sono usciti fuori da quelle intercettazioni, nessuno può fare lucro sulle nostre vite, noi siamo la luce che distruggerà il buio.